Vi siete mai accorti entrando in una serra di sentire molto caldo? I raggi solari che attraversano il vetro vengono assorbiti da oggetti e persone che li riemettono sotto forma di calore, ovvero di raggi infrarossi. Gli infrarossi allora ritornano verso il vetro, ma la maggior parte di loro non riesce ad attraversarlo, il vetro fa un po' da scudo e allora vengono rimandati giù, riscaldando ulteriormente persone e cose. Sul nostro pianeta succede lo stesso e in atmosfera gas come vapore acqueo, anidride carbonica e metano funzionano come tanti piccoli scudi e fanno rimbalzare giù gran parte dei raggi infrarossi. Questo è l'effetto serran naturale, quello buono. Questi gas sono presenti da sempre in maniera equilibrata, ma da 200 anni a questa parte stiamo immettendo in atmosfera talmente tanta anidride carbonica da aumentare la quantità di questi piccoli scudi. Quindi questo è l'effetto serrantropico, quello brutto, che sta mutando la temperatura media e sta scatenando un cambiamento climatico disordinato.